Eccoci qui, è appena finita la prima partita del mondiale, mamma mia quant'anno scarsi i sauditi, come cazzo si dicono. Comunque 5 a 0 tra la Russia e l'Arabia Saudita, mamma mia. Davvero scandalosi, soprattutto il portiere, mamma mia. Come a vedere una partita tra professionisti e non professionisti. Comunque alla fine era nel pronostico. Tra l'altro ho fatto anche il PESA pronostico, era finito 3 a 1 per la Russia. Giusto perché sono un pochettino bravo con PESA, se no infatti finiva in quel modo. E niente, credi, adesso tocca vedere domani l'Uruguay e l'Egitto. Secondo me hanno le favorite alla fine per passare il girone, Uruguay ed Egitto. E vediamo un po'. Questo è il bello del mondiale. 5 a 0. Tra l'altro il quarto gol, bellissimo. Anche il quinto, ma il quinto è il più orrore del portiere secondo me. Comunque credo che domani sul giornale quelli dell'Arabia Saudita prenderanno una sfilza di insufficienze. Mamma mia, pessimi, pessimi. Bene, una rapida cosa su sta partita che ho visto. Domani cercherò di vederle tutte e tre. Comincia un grandissimo momento per il mondiale. E questo era. E adesso cercherò anche le portai i tre PES pronostici. Belli. E ci sono andato vicino alla fine e via. Allora, appuntamento quindi a domani. Nella parità di oggi ne conoscevo chissà quanti giocatori alla fine. Massimo due o tre delarevo insieme. Hacking, Feff, Zagweb, Toli. Ne conoscevo chissà quanti. Onestamente. Ne hanno giocatori di chissà quale spessore alla fine. Staremo a vedere come si svolgerà questo gruppo. E vediamo un po'. Intanto comincia con 5 gol il mondiale. Peccato che noi non ci sarei, ma tocca farsene la ragione. Purtroppo questo è. Passiamo avanti per quanto riguarda l'Italia. E niente. Appuntamento a domani per le tre partite. A cominciare da Uruguay-Egitto. E poi a seguire le altre.